di sto che siam primi e che dobbiamo vincere tu vendi resta a casa tua t ¡ohohohohoh Oh ma takeaway DTA č č č capito che oggi non si vince …menagramo reato ero tu dov'č č posto o Čニanno fa o Č c'č Čto Č che č canvo Puttana. Fammi fare anche il sogno della croce, questo qua si è messo pure di fianco a me oggi ed è durissima. Signora, la faccia anche lei, che questo qua porta sfiga. Anche lei, eh, che questo qua porta sfiga, capito? Signora, ti prego, aiutami oggi. San Ronaldo prega per noi. San Milito prega per noi. San Recoba prega per noi. Ma sì, dai, mettiamoci dentro anche il cinema. Voglio ventola in campo, il mio giocatore preferito. Quando entro, Nicolino, quando entro? Ma, porca, ancora questo ventola, questo qua ancora ha convinto che giochi in ventola. Boh, finita, perso anche oggi. La maledizione del Tuir continua a farmi dare una scapperata. Ce l'hai fatta anche oggi, eh? Sì, insomma, però, non mettermi le mani addosso, eh? Sennò te le metto io la prossima volta che vieni ancora allo stadio. Uoi, tronchetti, devi sapere che questo qui ogni volta che vieni allo stadio non vince mai. Diggilo anche a te di non venire più. Diggi che deve soltanto cacciare la grande vesta. Io vado, Massimo. Bravo, bravo, Tuir, vai, vai. Vieni di andare fuori dalle belle, e anche di corsa. Ma pensate che ho venduto l'Inter. Siede delle merde. Devo battere l'Inter. Per vincere l'Oscars a Hollywood. Fuzza. Con il nostro entusiasmo, il presidente Aurelio De Laurentiis. Buonasera, buonasera a tutti. Bella figa, ti faccio fare cinema. Buonasera, buonasera, buonasera. Datevi il microfono. Siete tutti quanti delle merde, lo sapete, amici miei. Perché voi non vi meritate. Un grande presidente, come a me. Detto questo, sono qui a ritirare l'Oscars. Del calcio e del cinema. Vedo che c'è anche la merda di Platini presente in sala. Vai a fare in culo. Lo dedico a te, questo premio. Vabbè, mi sono otto il cazzo. Il premio, me lo prendo da solo. De Oscar Gostu Aurelio. Il miglior presidente del mondo. Che viene dal cinema. Ed è anche un gran signore, porca troia. Allora, a questo punto io pregherei... Ma che bella figa. Sei metri di figa. Guarda che stacco. L'aspetto là dietro. Questa me la trombo. Questa è da Oscars. Ventolino mio. Mio giocatore preferito. Scegna per me. Attenzione. È tornato a giocare Ventolino. Ventolino. Goal. Goal di Ventolino. Ventolino mio. Ventolino mio ha fatto gol per me. Guarda come balla. Oh, Ventolino è tornato. È tornato. Ventola. E Ventola porta in vantaggio l'Inter. Il terzo gol di Ventola in questa... Guarda come balla Macalena. Glambia per canta Ventolino. Molto meglio di Caldi. Cioccia e Caldi. Cioccia. Oh, sì. 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 E voi a casa. Seguite l'autogon su Facebook. E cliccate a me piace. Alla loro pagina. Fa piano e Caldi. Fa piano. Oh. Oh. No. Oh.